C'è una domanda che in molti si fanno continuamente. Come si diventa artisti di successo? La risposta è, se lo sapessi non starei qui a fare video del cazzo dalla mattina alla sera, ma sarei su un palco a farmi idolatrare dai miei fan. Ma ci sono degli elementi che almeno nella teoria dovrebbero essere rintracciabili in molti casi. Carisma, talento in qualcosa, riconoscibilità, perseveranza. Poi non sottovaluterei una certa dose di culo ma anche un buon marketing. Spesso infatti dietro un artista di successo c'è una strategia promozionale con i controcoglioni. Che poi mi sono sempre chiesta che cos'è un controcoglione. Al mondo esistono fantastilioni di agenzie e promoter musicali. Alcuni sono validissimi esperti di music business che sanno davvero il fatto loro. Altri sono dei ciarlatani a bindola tonti. E ogni cantautore impantanato che si rispetti almeno una volta nella sua vita è caduto o ha rischiato di cadere nelle grinfie di un esponente della seconda categoria. Il promoter venditore di fuffa. Ciao, sono Gian Maria Spennapolli, fondatore titolare manager e CEO della prestigiosa Spennapolli Music Promotion. Io e il mio staff ti abbiamo notato su Facebook e vorremmo proporti una collaboration. Siamo convinti che tu abbia tutte le carte in regola per diventare una star. Io? Una star? No, di più, una star, con due S, tre A, due R. Ma è fantastico! E qual è la canzone che vi ha definitivamente convinti riguardo le mie potenzialità? Eh, quella che fa tipo la la la... Ah, la tristezza non fa rumore! Esatto, proprio quella. È davvero un brano che spacca. Crediamo fermamente in te e nelle tue potenzialità, per cui vogliamo offrirti l'opportunità di sfondare nel mondo della musica. Offrirmi! Vogliamo regalarti la chiave per il successo. Regalarmi! Esattamente! Noi ti guideremo verso la realizzazione del tuo sogno, con un piano di promozione studiato apposta per te. Passaggi in 200 web radio accuratamente selezionate tra quelle che nessuno ascolta. Pubblicazioni su decine di blog e webzine che nessuno legge. Passaggi del tuo video su 150 canali tv del digitale terrestre che nessuno guarda. Articoli su una decina di quelle rivistacce di gossip che si trovano solo dai parrucchieri frequentati dalle vecchiette. Ma è meraviglioso! Come potrò mai ricompensarvi per avermi regalato tutto questo? Pagandoci un piccolo contributo spese di 5.000 euro in un'unica soluzione oppure 6.000 euro in tre comodissime rate da 2.900 euro ciascuna. Ma non fa 6.000. Esatto! L'attenzione ai dettagli è la cosa più importante. Mi piace il tuo atteggiamento, è per questo che ti vogliamo nel nostro team. Sei uno stakeholder con una vision che collima perfettamente con la nostra mission di branding in un contested music business. Eh? Ed è proprio per darti il benvenuto nella nostra famiglia che voglio mettere sul piatto il nostro asso nella manica. Elimineremo i tuoi competitors con le nostre SS! Ah! Le nostre Spotify strategies! Il tuo single volerà verso le più alte vette delle classifiche di streaming. In una settimana avrai un milione di plays! Un milione di listeners! Un milione di saves! One million dollar baby! Ma mi voglio rovinare! Con un piccolo contributo extra di 1.000 euro ti regaliamo anche 100.000 followers su Instagram, 10.000 likes alla pagina Facebook, una bicicletta con cambio Shimano, una batteria di pentole con doppio fondo in acciaio inox e una fascia dimagrante color carne. Ma affrettati, scade domenica! Oiii, come va? Eh, io tutto bene, si va alla grande! Hai visto l'articolo che parla di me su Budella 6000? A pagina 49, sotto la ricetta della pasta in bianco di Pamela Prati! Sì sì, guarda, la settimana scorsa ero prima nella classifica dei singoli più ascoltati in Cracozia e vado molto bene anche in Uzbekistan. Una cosa che veramente non mi aspettavo, su Instagram ho un botto di followers dal Bangladesh. Pensate! No, vabbè, momentaneamente non mi trovi più perché hanno visto questa esplosione di streaming da paesi magari un po' atipici, no? E hanno pensato che fossero taroccati, eh. Quindi mi hanno rimosso le canzoni. No, ma Gian Maria ha detto che si tratta solo di un misunderstanding. Appena torna dal Messico risolve tutto, sì sì. Senti, mica hai bisogno di qualche padella antiaderente? No, vabbè! Phi cosi! Senti, mica hai bisogno di tutto! E a più! Senti... Qu'è anche io tutte le canzoni già per un saluto al passaggio dei padr 약간ulati di questo musei, excuses dalle ricettante di skiesop 180 Miami ha 똑같i. E quindi l'arte, è meglio che non mi trovi più oltre per per tipo di aziend Cole. Grazie a tutti.